Un piano Marshall per l'agricoltura perché non ci si trovi impreparati di fronte alle future siccità. L'assessore regionale Alessandro Beduschi a Robbio nell'ambito di una visita istituzionale ad alcuni grandi aziende della Lomellina considera le piogge di maggio una parentesi e spiega come la Lombardia voglia attrezzarsi nella consapevolezza che anche senza fenomeni estremi come la siccità del 2022, da ora in poi non sarà più possibile aspettarsi precipitazioni regolari in corrispondenza con i cambi di stagione e che quindi occorre agire in programmazione. La tutela della risorsa idrica sia in termini di infrastrutture per l'accumulo e l'irrigazione sia in termini di nuove tecnologie di coltivazione sarà il punto chiave della prossima campagna da 400 milioni del PSR il piano di sviluppo rurale con cui la regione distribuisce i fondi europei. È un cosiddetto piano Marshall anche idrico che deve partire proprio dalla consapevolezza che i penultimatum degli ultimi anni non devono essere ripetuti, questo è davvero l'ultimatum quest'anno abbiamo avuto questa parentesi fortunata dalle nostre parti, sfortunata da altre parti ma gli investimenti di regione Lombardia saranno davvero massicci e anche la ricerca, anche l'innovazione delle migliori tecnologie stiamo avendo anche un panorama internazionale per avere le migliori soluzioni. Le piogge di quest'anno sono sì arrivate ma in ritardo, molti agricoltori spaventati da un'estate che solo un mese fa sembrava poter diventare la replica di quella precedente al momento delle semine hanno preferito abbandonare il riso per il futuro vista l'impossibilità di stipulare assicurazioni contro la siccità andranno considerate politiche di assistenza ai risicoltori. Io credo che il riso non debba essere abbandonato, anzi deve essere incentivato alla produzione perché la richiesta è tanta, per cui agli agricoltori e al mondo produttivo pavese dico di non spaventarsi che regione Lombardia accompagnerà in questa transizione anche produttiva i produttori locali. Il contrasto ai cambiamenti climatici non potrà però prescindere da un aggiornamento delle tecniche di coltivazione. Tra le pratiche da incentivare, gli esperti indicano in particolare l'utilizzo delle risaie in sommersione. L'insommersione è la nuova frontiera anche dal punto di vista produttivo e anche del reddituale sembra essere molto accattivante. Regione Lombardia, proprio con lo strumento del PSR, vuole accompagnare la categoria a esplorare questa nuova frontiera perché anche in fatto di resa sembra essere davvero molto commettente.